bello a tutti ragazzi qui da stargump che mi pare siamo in compagnia di più vero chiediti a royce va bene adesso più visto che royce non può parlare salutami da qui dai ah no è vero no no scherzavo non ascoltate me per fare il marker e lo farà più ora ha messo i primi pulsanti da soli devo smettere dai cazzotti al joystick io ho dato un scio e ora tipo mi mira da solo no chi è questo buona e gianfone non mi stabilizza la parte le scosse guarda che marcio oh pillone mamma mia l'ho visto sì è da sclero quello con due scudi ma come fa quel nabo io sto andato lì boh vabbè c'è intanto ci faccio esplodere guarda se il trio è che se gli parte la scossa e il trio è stato è un po' di tempo e si è un po' di tempo e si è un po' di tempo però lo ha distruggito ma che c'è intanto oh oh my god oh 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 più grossi del sporco di dio eh? che ore? ahhh... ahhh... guarda gli ballavano subito il capparo e l'ho preso oh attenzione a quell'uomo spawn con due scudi link sì, ce n'è uno dietro a te mi sa dico, ciao guarda qui nel posto come va? oddio lag regà porco dio non capisco perchè tu ti dici star che va baro ma non c'eva nessuno porca madonna eh ce l'ho dietro che palle oh ah ma perchè tu ti dici star che va baro e non c'eva nessuno ma io non ho sentito niente, secondo me si è annullato se ti è andato niente come un assassino porca madonna non inti tanto ce l'ha sopra oh my god chiesu goblin ahahah lui dropshotta prima che arrivi e non ti sa come va però poi le spara al ginocchio e quello esplode non mi preferai aspetta ora dopo gli dico che ero risacher ah e ha sparato al ginocchio porca dio quello si è devastato dai ragazzi io non ti hanno vinto oddio starnuto porco dio l'altra volta ahm shoo beh ho sputato tutto il mio fegato non è vero non è vero Edithor mui stai scherzando no proprio decartato oh my god oh my god le doppie di noi di plat che ho paura 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 mi raccomando che è padre vado a suicidarmine che babbara rega l'ho visto ah no no me coglietro 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 aiuto dov'è dov'è mafio libsy che colpo chi morisce raga me sa che ti abbo Piazzano su B Piazzano su B Oh sta arriva su A Sta arriva su A Dove sta rammati Ma che è qui Oh piazzato su B Ma dove stavo io Non voglio sapere dov'è Questo è un window shot Venga è dentro la casa sta arriva da voi Oh You hit Non mi rendete conto di dove era me No perché Perché però è offline Perché però è offline Perché sta allagga come la merda Bene Quindi siamo arrivati 5 E non interemo mai Allora vabbè Ah ma vedremo Non si sa mai Ora prendo la planta di piazza Ora vedi spook shot in window shot Triple headshot Col bank Solo triple o no Oh 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 Grazie a tutti. 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 No, kill 2. No, kill 1. Non so che ho imparato come lo sto. Eh sì, vabbè, last. No, kill 1. Mamma morta. Aspettavo fino alla fine. È il last, raga, è il last. Oh, oh my god. Oh my god. Go on bitch, go on. Grande. 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 Grande, però, bella. Oh, è mutato. Bene. Ora dobbiamo mutare un'altra volta. Ora lo mettiamo un'altra volta. Edith, se hai detto che non hai registrato mi sa incazzare. Eh, ecco. Eh, ecco. Ecco, sì, sì. Io ci credo. Io ci credo. Ci credo. Ci credo. Cioè, ragazzi. Chi? Ti credo fa solo il clip nel Rottogizio amai. No, le Rottogizio. Grazie a tutti. 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 C'è arato Billy The Red, porco Dio. Se si riconnette domani è un cazzo de mistero perché è proprio arato, deve spaccare la play. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.